Raccolta differenziata a Como, parziale marcia indietro per rispondere alle esigenze dei commercianti. È stato fissato per giovedì un incontro in comune tra Assessore e Aprica, società che gestisce il servizio avviato in città all'inizio di giugno, le cui modalità di ritiro non vanno giù a chi lavora in centro, tanto che la scorsa settimana nella sede di Confcommercio si è svolto un acceso confronto tra amministratori comunali, tecnici di Aprica e negozianti. Due le principali lamentele, l'orario di esposizione della spazzatura, soprattutto dell'umido a partire dalle 18 e della carta al sabato dalle 12.30. In particolare, i commercianti hanno spiegato come sarebbe meglio esporre i rifiuti la sera, anche tardi, per poter spostare la raccolta durante le ore notturne, invece di avere bidoni maleodoranti esposti durante la prima serata e i mezzi in circolazione, tra le aree critiche via Boldoni e Piazza Mazzini. Dal canto suo l'amministrazione è disponibile a modifiche, purché le soluzioni vengano condivise da tutti, ristoratori, negozianti, supermercati e residenti. Durante l'incontro di giovedì cercheremo di capire con l'azienda se si possono studiare nuovi orari per il ritiro e arrivare ad una prima ipotesi operativa, ha spiegato l'assessore all'ambiente di Palazzo Cernezzi, Bruno Magatti. A seguire, auspichiamo, conclude un nuovo confronto con gli esercenti. Una volta predisposte eventuali nuove modalità, bisognerà capire come diffondere le informazioni e quando mettere in atto i correttivi.